amanti del gossip e fedeli seguaci del grande fratello. Siete pronti per una storia che vi lascerà senza parole? Oggi, abbiamo per voi un racconto carico di emozioni, sorprese e, ovviamente, intrighi amorosi. Prima di immergerci in questa avventura, ricordatevi di lasciare un like e di iscrivervi al nostro canale per restare sempre aggiornati sulle ultime novità dal mondo del gossip. Mirko Brunetti, l'ex inquilino del grande fratello che ha lasciato tutti a bocca aperta con le sue ultime rivelazioni. La sua avventura nella casa più spiata d'Italia è stata un vero e proprio rollercoaster emotivo, piena di sorprese e colpi di scena. Ma la vera bomba è scoppiata dopo la sua uscita dalla casa. Immaginate la sua incredulità quando ha scoperto che una canzone, intitolata Al Perletti, è stata dedicata a lui e alla sua ex Fiamma, Perla Vatiero. La loro storia, nata sotto i riflettori di Temptation Island e proseguita nel Grande Fratello, ha sempre fatto discutere, dividendo i fan in due fazioni. Ma con l'arrivo di Greta Rossetti, le carte in tavola sono cambiate completamente. E ora, fuori dalla casa, Mirko si è trovato faccia a faccia con il suo passato e con un mare di emozioni contrastanti. Durante un confronto diretto con Perla e una conversazione emozionante con Greta, Mirko ha finalmente messo un punto alla sua storia con Perla. Ma i fan non sembrano essere della stessa idea. La canzone Il Perletti, diventata virale su Spotify, cattura tutta la magia e la complessità della loro relazione. E la reazione di Mirko? Totalmente incredulo e grato, ma su Spotify tutto ciò? Non ci posso credere, ma veramente? Voi, cari spettatori, cosa ne pensate? C'è ancora una speranza per Il Perletti? La storia di Mirko e Perla vi ha emozionato tanto quanto ha emozionato noi. Condividete le vostre opinioni nei commenti qui sotto. E ricordate, se vi è piaciuto questo video, lasciate un like e iscrivetevi al nostro canale per non perdere altre storie appassionanti come questa.